... Avete visto cosa dice il giornale? Pio e Medeo vengono a Pescara con il loro spettacolo Tutto fa Broadway e cosa hanno dichiarato? Che i foggiani sono uguali agli abruzzesi Va bene, ci sta, siamo tutti uguali però su una cosa non ci fregiamo su l'umagna Ed è per questo che noi di una vita cioè in rappresentanza dell'Abruzzo vi sfidiamo al test dell'arosticino Vi sfidiamo a mangiare gli arosticini insieme a noi e vedere chi ne mangia di più e allora sì che si vedrà se i foggiani sono uguali agli abruzzesi Se non avete paura, noi vi aspettiamo